Musica Nel 2014 aveva ucciso l'orso, ora il tribunale li ha pignorato in quinto della pensione, protagonista della vicenda è un anziano di Vettorano Sul Gizio, all'epoca dei fatti dipendente Anas. La lunga vicenda giudiziaria lo ha visto condannato a risarcire per 25.000 euro ciascuno all'associazione Salviamo l'Orso e Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il WWF, la LAV e Pronatura. Oggi Salviamo l'Orso tramite l'avvocato Michele Pezzone ha ottenuto il pignoramento di un quinto della sua pensione che sarà devoluto per la salvaguardia dell'orso Bruno Marsicano. L'ex cantoniere dell'Anas venne assolto in primo grado in appello con successiva conferma della Cassazione, venne ritenuto responsabile civilmente e condannato a risarcimento dei danni a favore delle associazioni e dell'ente Parco, oltre alle spese processuali del doppio grado di giudizio. Come il 56enne di San Benedetto dei Marsi, anche l'uomo di Pettorano confessò di aver ucciso il plantigrado dove aver avvertito rumori provenienti dal suo cortile, uscì di casa armato di fucile per verificare cosa stesse accadendo, trovandosi di fronte a un grosso esemplare di orso, scivolando poi all'indietro riportando una ferita alla testa. Dalla caduta sarebbe partito il colpo di fucile che ferì gravemente il plantigrado, poi fuggito e ritrovato l'indomani in una zona poco distante dal casolare. Tempi più lunghi per il reclutamento dei primari degli ospedali dell'Asla Vezzano su Monalacuila, tutto da rifare, l'azienda sanitaria con apposita deliberazione firmata dal direttore generale Ferdinando Romano ha proceduto in autotutera la rettifica dei 25 bandi espletati in precedenza al fine di modificare i punteggi richiesti per il curriculum il colloquio dei singoli candidati. Contestualmente sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per un periodo di ulteriori 30 giorni che decorre dalla pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla gazzetta ufficiale. Sostanzialmente spiegano dalla ASL sebbene 25 bandi siano stati redatti in conformità della delibera di giunta regionale numero 656 del 10 novembre 2022 pur correttamente richiamata e identificata per mero errore in serie di riproduzione del testo normativo nelle rispettive sezioni sono stati riportati punteggi disallineati rispetto a quelli fissati nella medesima deliberazione. L'azienda con la rettifica in autotutela cambia punteggi relativi al curriculum richiesto ai candidati per i quali verranno assegnati un massimo di 40 punti mentre 60 punti saranno attribuiti in serie di colloquio. La valutazione del curriculum professionale va effettuata prima dell'inizio del colloquio. Ne consegue che coloro che avevano presentato la domanda hanno facoltà di inoltrare un'istanza ex novo. La filiera della pubblicazione degli avvisi per il reclutamento dei direttori delle unità operative complesse ricomincia da capo con lo stesso ITER. Per l'area Peligno-Sangrina saranno reclutati primari delle unità di ostetricia e ginecologia, ortopedia e traumatologia, anestesia e reanimazione, cardiologia UTIC dell'ospedale di Sulmona, la medicina interna dell'ospedale di Casteldisangro e il distretto sanitario. Si giocherà tutto in una settimana e secondo round in fase cautelare per i poliziotti della stradale di Pratola Pelignia, sospesi da servizio con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona. Gli agenti che hanno trascorso l'estate senza pistola e tesserino torneranno alla sbarra davanti al giudice Aquilani per il ricorso depositato dei rispettivi legali. Le udienze sono state fissate in tre diverse date, 7, 11 e 14 settembre. Nel giro di una settimana si saprà se i 10 potranno tornare o meno in servizio. Le accuse a vario titolo sono truffa e falso ai danni dello Stato, peculato, furto, omissione d'atti d'ufficio, omissione di soccorso, interruzione di pubblico servizio. Per i difensori si tratta di un provvedimento generalizzato che non tiene conto nemmeno di alcune condotte episodiche e contestate che in alcuni casi farebbero venir meno la continuazione del reato, secondo la tesi dei legali che hanno eccepito pure l'eccezione preliminare della competenza territoriale. Per i GIP per il Tribunale di Sulmona, che aveva accolto appieno le richieste del sostituto procuratore Stefano Iafolla, gli accertamenti investigativi hanno consentito di ricostruire la sussistenza di un sistema seriale di condotte attraverso le quali un gruppo di agenti di polizia stradale ha anteposto in modo ostinato e reiterato il soddisfacimento dei propri interessi personali al diligente adempimento dei doveri istituzionali in pregiudizio dell'intero sistema di sicurezza, prevenzione e soccorso della viabilità sul territorio di competenza. In tre anni di indagini, dal 2019 al 2022, svolte tramite intercettazioni ambientali e telefoniche, GPS e telecamere, i poliziotti avrebbero abbandonato il posto di lavoro per dormire in auto o intrattenersi in alcuni esercizi commerciali mentre erano in servizio. Approfittando della propria posizione, tre di loro avrebbero rubato beni di tenue entità patrimoniali in una stazione di servizio. Altri avrebbero inoltre utilizzato auto di servizio per fini privati e sempre secondo l'accusa avrebbero omesso di svolgere rilievi in un sinistro stradale e di prestare soccorso a un veicolo in panne. La palla passa ora a riesame. Reste domiciliari, 46 anni di origine siciliana, residenti a Prato-La Peligna, tratto in arresto lo scorso 6 luglio dal nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Sulmona, poiché è trovato in possesso di una pistola nell'auto. Lo ha deciso il Tribunale dell'Esame dell'Aquila, che ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare ed è possidata dall'avvocato difensore Angelo Pace. Per i giudici aquilani la misura cautelare applicata alla Tribunale di Sulmona risulta la più adeguata, tenendo conto anche della pericolosità sociale del soggetto. L'uomo era staro fermato all'altezza del posto di blocco, nei prestiti e casello autostradale di Prato-La Peligna, con una pistola calibro 765, con 12 proiettili conservati in un barattolo bianco. L'accusa è di ricettazione, poiché è trovato in possesso dell'arma con codice a braso, detenzione legale di arma da fuoco, detenzione di munizionamento. Il 46enne dal canto suo si era difeso, spiegando di essere appassionato di armi, di aver trovato la pistola lungo l'autostrada. L'arma, a suo dire, sarebbe stata conservata nella vettura ai fini della restituzione, una versione che non ha convinto i giudici del riesame, anche perché l'uomo, come si evince nell'ordinanza, avrebbe conservato e pulito la stessa pistola, circostanza questa che ha spinto i giudici a non credere alla tesi difensiva. Intanto prosegue l'inchiesta di procura e carabinieri. Sono in corso specifiche verifiche per accertare se la pistola può essere collegata con le azioni delittuose, per lo più intimidazioni, e regolamento di conti che si sono succedute dall'inizio dell'anno in Valle Peligna. Cambio al vertice delle fiamme gialle di Popoli, dove il luogotenente Marcello Giallorenzo cede il comando a sottotenente Rino Marsilio. Il passaggio di consegni è stato suggellato da una cerimonia all'interno della caserma della tenenza, alla presenza del comandante provinciale di Pescara Antonio Caputo. Giallorenzo, di origine abruzzesi, chiude una parentesi quasi decennale alla guida della tenenza, dopo 40 anni di onorata carriera. Nell'arco del suo percorso professionale il luogotenente ha svolto incarichi presso diversi reparti del corpo, dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze al secondo reparto del comando generale fino alla compagnia di Sulmona. Per questo è stato insegnito della medaglia al merito di lungo comando della Guardia di Finanza. A suo posto è sottotenente Rino Marsilio, anche lui di origine abruzzesi, laureato in economia e managgiamente con importanti pregresse esperienze professionali presso il comando generale, i nuclei di polizia economico-finanziaria di Palermo e Chieti, la tenenza di Enia in provincia di Bolzano, da ultimo il gruppo di Pescara. Cerebrati a Sulmona i 60 anni del Sulmona Volley con la presentazione di un libro che rega appunto questo titolo. Gli autori sono Giovanni De Angelis ed Antonio Camplone. Il partecipato evento culturale e sportivo si è tenuto nel palazzetto dello sport, alla presenza di alcuni dirigenti regionali e nazionali della FIPAB, Federazione Italiana Palla Bolo. Presente il dottor Domenico De Glieri, presidente della fondazione Carismac. Presenti i numerosi cittadini che in qualche modo sono legati a questo sport. Presenti i numerosi, giovanissimi, dell'attuale squadra del volley. Occorre direi subito che Giovanni De Angelis è un pilastro del volley a Sulmona. Un tempo anche lui, giocatore, ha raccolto dalle mani di Franco Del Monte, il testimone del volley. Del Monte è stato il primo a portare lo sforzo della palla a volo a Sulmona. De Angelis rappresenta lui stesso la memoria storica del volley fino a condurlo all'attuale ASD Sulmona Volley. Com'è nata l'idea di scrivere un libro sulla volley? L'idea è nata durante il periodo Covid, quando chiusi in casa avevamo già fatto tutto di tutto, di più. E quindi è partita l'idea di scrivere questo libro al manacco, perché c'è storia e ci sono anche dei dati ufficiali riportati dalla federazione. Il libro ha diverse valenze. La prima è per i tesserati che frequentano attualmente e che devono conoscere per forza di cosa la storia della società di cui fanno parte. La seconda è per tutti gli atleti, dirigenti e presidenti che sono passati nel nuovo arco degli anni e che hanno scritto la storia operando sul campo e dietro le scrivanie. E per ultimo perché questa bella storia non deve finire. Qual è stata la sua collaborazione alla redazione di questo volume? Allora, questo volume nasce, vi avevo anche detto, dell'unione di altri due libri che erano stati pubblicati in precedenza. Uno sui 40 anni del Sulmona Volley e uno altri 10 anni del Sulmona Volley che era stato pubblicato nel 2013. Il lavoro è stato molto importante perché si è cercato di riunire 60 anni di pallavolo prendendo le notizie dei due volumi precedenti e mettendo in mezzo anche le notizie attuali, cercando di non fare un volume che non fosse un'enciclopedia impossibile da leggere. Il lavoro grosso è stato proprio quello, quello di cercare di riuscire a condensare bene, rendere leggibile un libro e soprattutto renderlo fresco anche dal punto di vista delle notizie inserite. Speriamo che il lavoro fatto sia stato, diciamo, venga apprezzato, soprattutto dai ragazzi, perché noi ci siamo rivolgiamo, soprattutto ai ragazzi, perché logico, chi ha fatto la pallavolo a Sulmona Volley le notizie già le conosceva perché ha visto i volumi precedenti, c'è un'intera diciamo parte di ragazzi che sono in questi ultimi 10 anni hanno iniziato a fare pallavolo che non conoscono assolutamente cos'era Sulmona Volley, dove ha giocato, dove ha iniziato a giocare, ricordiamo che Sulmona Volley iniziò a giocare in un campo di una parrocchia sua a Sant'Antonio, per cui il palazzetto è stato il punto d'arrivo alla fine di tutto un ciclo che ha portato appunto a questo. Per cui i ragazzi devono anche capire cosa c'è stato dietro, i sacrifici, sperando che poi anche loro siano in grado di trasmettere questa voglia di fare che hanno avuto chi li ha preceduti, portandola avanti per i prossimi magari 60 anni, chissà. Il libro si presenta in bella veste tipografica, con significativa copertina, la figurante piazza 20 settembre, con la statua di Ovidio in primo piano. 208 pagine, editrice SIGRAFF, arricchito da numerose fotografie anche dei primi momenti della vita del volley sulmonese, come dire, foto storiche. Il libro si legge agevolmente, comunque ha un notevole valore di carattere diciamo storico, perché oltre a raccontare la storia di uno sport, racconta anche fatti e personaggi della città, come ha osservato Domenico Taglieri. La fondazione di cui lei è presidente è sempre attenta alle cose importanti ed anche allo sport, è così? Sì, non potevo fare a meno di essere presente a questa iniziativa, ce ne sono tante oggi, voi sapete, anche perché qua si parla di 60 anni di storia della nostra città. Hanno fatto un volume dove la fondazione è presente e hanno ripercorso l'attività e il lavoro fatto in questi 60 anni di vita del volley, questo sport che tutti sappiamo che è stato importato alla fine della guerra dagli americani e che è stato seguito da molti. Il weekend trascorso ha registrato la presenza di oltre 400 atleti provenienti a tutto l'Abruzzo per partecipare sul mondo a campionati regionali individuali e di società. La manifestazione affidata dal comitato regionale FIDAL alla SD Amatori Atletica Serafini è servita ai tecnici e dalla struttura per individuare gli atleti da convocare ai prossimi campionati italiani cadetti in programma il 7 e l'8 di ottobre. L'appuntamento di Sormona ha anche dato le necessarie indicazioni in quanto i risultati che sono arrivati nelle due giornate hanno riproposto per gran parte dei partecipanti le qualità che i migliori avevano già evidenziato nei mesi precedenti. Questa considerazione fa capire che gli atleti dell'Amatore Serafini, anche in questo importante appuntamento di sabato e domenica scorsi, hanno dimostrato di guadagnare la fiducia dei tecnici ed entrare a pieno diritto nella formazione abruzzese che appunto prenderà parte ai campionati nazionali. Nell'elenco delle migliori prestazioni ottenute dagli atleti sul Monesi vanno considerate quella innanzitutto di Simone Ottaviani, vincitore dei metri 100 ostacoli con 14.06, Matteo Tiritico nel peso 12.94, Renzo Sito nell'alto 1.72, nella velocità Sito e Matteo di Felice hanno raggiunto rispettivamente seconde posizioni con 9.60 e 9.68. Stupenda la prova dei 300 ostacoli per Riccardo Garrozza che si è classificato al secondo posto con il tempo di 44.24, dimostrando di essere un atleta in crescita in questa specialità. Anche Ilaria Ranaldi ha guadagnato il secondo posto nei metri 80 con 10.95 e nei metri 300 con 44.92, dove ha affrontato per la prima volta questa distanza. Secondo posto anche per Susanna Antonelli nel peso con 8.64. Altri risultati importanti sono stati conseguiti da Lisa Cagnone, Maria Elezzi, Matilde, Valente, Giorgio Portoluri, Sofia Carnevale e Cristian Dabenzio. A termine delle gare sei atleti, ben sei atleti lo ripetiamo, sono stati convocati a Camerino per un raduno di controllo che precede i campionati nazionali di ottobre. Simone Ottaviani, Simone allora ce l'hai fatta, anche alla grande, sono contento, soddisfatto. Sì, grazie, ringrazio i miei allenatori, Luigi Carrozza, Domenico Carrozza e l'Anonisa Cnolle. Sì, è stata una bella gara, mi aspettavo qualcosa di più, poi ho preso col ginocchio un ostacolo che mi ha compromesso anche il resto della gara, però beh, sono soddisfatto. Però hai vinto, è importante. Sì, assolutamente. Parlaci di questa specialità che fai. Faccio questi ostacoli da un anno e mezzo e mi sono sempre piaciuti come specialità, forse la mia preferita e anche quella dove vado meglio e li continuerò anche l'anno prossimo che cambio categoria. Finirai anche tu al nazionale? Sì, sono contento di andarci, ancora so bene la specialità che farò, sempre molti, più ostacoli o alto, però è una bella soddisfazione per questi tempi, quindi sono contento. Luigi Carrozza, organizzatore, sempre presente e grande soddisfazione anche questa. La prima soddisfazione è arrivata, è vero? Certo, è questa veramente, è un'altra grande soddisfazione perché ormai da anni organizziamo questi eventi in città e li organizziamo su un impianto che naturalmente è un fiore all'occhiello, non solo per la nostra città ma anche per l'Abruzzo, perché noi quest'anno abbiamo organizzato addirittura otto manifestazioni qui a Sulmona e quindi abbiamo dato un impulso fortissimo all'atletica regionale. Ecco, oggi sarebbe l'ultimo evento della stagione per cui dopo la gara di questo pomeriggio naturalmente l'atletica si ferma, se vogliamo. Però c'è il campionato nazionale in ottobre. Sì, difatti questa gara di oggi è la gara più importante della stagione per questa categoria cadetti. Perché vengono scelti quelli che poi andranno. Esatto, verranno scelti i migliori atleti che poi andranno a fare i gammati italiani che quest'anno si svolgono i primi giorni di ottobre. Noi siamo un po' di parte, l'SD Nicola Serafini si presenta bene? L'SD Nicola Serafini ormai da anni è una immagine fortissima della nostra atletica regionale. Quest'anno ancora di più, perché quest'anno noi abbiamo addirittura sette giovani della nostra società che parteciperanno ai gammati italiani. Quindi tra l'altro è anche un primato, perché è la prima volta che sette ragazzi, sette giovani della nostra società, della nostra città partecipano a un evento così importante come i gammati italiani. E' la conca che si comincia, mi faccio tremare, mi ha cercato a gioccolare la notte! Circa 12.000 persone hanno preso parte la notte bianca sul Monese che è tornata in vita dopo dieci anni esatti. Un dato significativo venuto dall'intero arco temporale dell'evento, dalle 18 alle 4 del mattino, se si considera che lo stesso è stato organizzato in pochi mesi, presentato tre giorni prima, non ha avuto un grande nome che è fatto da traino. Non è un caso che le presenze si sono registrate pressoché da circondario. Tuttavia, secondo l'associazione Gravity Project di Andrea D'Agostino, il bilancio è positivo perché ogni sul Monese si è sentito più tale del solito. Sono molto soddisfatto della riuscita dell'evento. Poco fa ero in un'amministrazione comunale, sono molto soddisfatti. C'è stata affluenza, sono un mondo corso vinto nelle prime ore dell'evento. Piazza Caribaldi, una piazza Caribaldi-Stracolma che tutti sappiamo, essendo una delle piazze più grandi d'Europa, ha difficoltà nel riempimento con gli ospiti. Quindi sono molto soddisfatto della riuscita e come tu mi hai dicevato prima, organizzata in un poco più di 100 giorni, con un programma cambiato repentinamente dovuto comunque ad esempio Raffaella Carrà che ci ha disdetto questa mattina la cover band per problemi di salute. Però mi ricordano tutto e penso che l'evento sia più riuscito. La strada da tracciare per l'avvenire è ancora lunga, soprattutto sul piano del coinvolgimento di tutte le attività commerciali. In ogni caso Sulmona ha ritrovato la sua notte bianca, chiaretto sul piano dell'ordine pubblico e della sicurezza, poiché non si sono registrate tensioni, fatta eccezione di due liti sul finale che sono state stroncate sul nascere, non degne di note per la cronaca. Ciò grazie al massiccio di spiegamento di forze dell'ordine volontari. Per il sorpasso dell'inciviltà al degrado, il cogesa si è messo in moto prima, durante e dopo l'evento. Sono stati raccolti 15 quintali di plastica durante la serata nottata, cestini svuotati all'istante dagli operatori a turnazione in base alle esigenze. Abbiamo voluto mettere in sicurezza il popolo della notte, ma anche assicurare civiltà e decoro a quello del mattino, commentano da Palazzo San Francesco tirando un respiro di sollievo. Una notte che tra le altre cose ha permesso di riscoprire la città, soprattutto con la visita guidata ai musei che sono rimasti aperti. Meglio si può fare, ma sempre secondo gli addetti lavori, meglio di così non poteva andare per questa edizione del 2023. Meglio si può fare, ma sempre le altre cose ha permesso di riscoprire la città, però non rispondi apprendere chi non sa. Piazza Grevita di gente, tante emozioni a facendo per il concerto dei ricchi e poveri, il gruppo musicale italiano originario di Genova, formato nel 1967, tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti, con più di 22 milioni di copie, sono il secondo gruppo italiano per vendita alle spalle dei Poo. Negli anni 70-80 diversi loro singoli hanno raggiunto la vetta delle classifiche italiane internazionali, tra questi si citano la prima cosa bella che sarà, sarà perché ti amo, come vorrei, mamma Maria, e Boulé-Boudin-Sé, alcuni dei quali sono stati scelti come sigle di popolari trasmissioni televisive. Hanno partecipato a ben 12 festival di Sanremo che hanno vinto nel 1985 con la canzone Semi innamoro e hanno rappresentato l'Italia all'Euro 1967. E il gruppo è arrivato a Facendo dove ha trovato una piazza calda in attesa della Corsa dell'Izzina. Semi innamoro, Semi innamoro, Semi innamoro, Semi innamorosa di te. E crederò come candidù, e ti darò qualche cosa in più. Semi innamoro dentro di me, darò la cosa in te. Grazie a tutti.